Dopo questi interventi istituzionali siamo ospiti, come dicevamo prima, di una città ma siamo anche ospiti dei nostri colleghi. C'è un collegio di Verona che avete visto il desk fuori, qualsiasi persona voglia informazioni sulle attività può rivolgersi lì. I colleghi si sono molto adoperati nell'organizzazione, quindi per un saluto chiamo il vicepresidente del collegio FIAIB di Verona Gianni Infortuna a portare il saluto. Apprezzando la signorità del presidente di Verona Luca Ronca che essendo candidato ha preferito lasciare stare. Grazie presidente, io direi che questo è un grande privilegio e un grande onore per il collegio di Verona, per tutti gli associati di Verona e ospitare il congresso in questa meravigliosa città. Il primo ringraziamento comunque va a tutti voi e al collegio regionale Veneto che ha appoggiato la candidatura di Verona per questo congresso e a tutti i dirigenti naturalmente FIAIB che hanno consentito affinché questo possa avvenire. Sono particolarmente anche personalmente contento di questo perché in questa città da moltissimi decenni, da molti decenni, sono un associato FIAIB. Io ringrazio tutti i consiglieri che hanno veramente lavorato molto e vi dico anche molto più di me per organizzare questo congresso e mi auguro che da questo congresso venga fuori per la nostra cara federazione il meglio che noi possiamo esprimere. Grazie e buon congresso a tutti. Grazie.